meravigliose, allora si parte dalla base d'asta dei 50 euro che offre i più 100, 150 a Bursari, va bene attenzione in console a questo momento per il miglissimo del nulla da Catanzaro, fatevi un po' da Catanzaro, un applauso il resident del rumo 26 delle terrazze del Vintage la Malta Cat, sulle mano sulle mano i veri bori chi non alza le mano, non arriva il tuo mano CMC Music Pancor ATTENZIONE ATTENZIONE vediamo se siete pronti, vediamo se siete caldi amici delle terrazze, buonasera a tutti a tutti Grazie.